Esistono tutte le condizioni tecniche, economiche e politiche affinché la struttura possa restare nel capologo Peligno e così è stato chiesto a Trenitalia di sospendere qualsiasi iniziativa, mentre al presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsilio di aprire un confronto. Ne sono convinte tutte le sigle sindacali, chiamate raccolte dal commissario della comunità montana Ostachio Gentile, sullo spostamento a Pescara della sala operativa della stazione ferroviaria. All'incontro preso parte la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo, mentre era assente il comune di Sulmona. Tutti i sindacati presenti hanno espresso un secco no, un illogico trasferimento della struttura, dove vi lavorano 15 persone perché è ingiustificato, costoso, inutile e dannoso per il territorio. È stato sottolineato come non si debba parlare di tagli occupazionali, spiega Gentile, ma invece di uno spostamento dei lavoratori da Sulmona a Pescara, nella sede inviede allestimento da parte di rete ferroviaria italiana, ma nella sostanza è solo fatto rilevare come il nostro territorio perderebbe comunque il lavoro. Tra le richieste c'è quella della regione di elaborare un progetto complessivo di rilancio del trasporto su ferro, sulle tratte abruzzesi, in particolare rispetto alla storica relazione Vescara-Napoli. A tal proposito è stato richiamato anche un accordo di programma in corso di elaborazione presso il Ministero dei Trasporti, che tra le altre cose prevederebbe anche la riconversione sul piano turistico delle stazioni lungo la tratta storica che va da Sulmona a Carpinone. Grazie Grazie Grazie